Passioni mille sciate, cuori appassiti, pili facce arrucicati, lascia in sti soli, rapi in sti mari, circa innamori, ora che ti negheri, campani e frati, senza innamorati, sciure basati. Signore, chiedo scusa, Don Totò, con Boccia delle Genze, io sono vostro ospite, ma oggi è un giorno particolarmente di delizia per mia e per tutta la nostra famiglia. Dovete parlare, perché vi piace parlare, parlare, spannazionare, che mi chiede che fa la vita, niente! Oh, oh, ma che sono queste voci? Ma che sta succedendo? È solo una questione d'onore.